Ecco a voi la nuova Nova RX, una gamma di tre macchine di altissima potenza con oltre 900 cavalli. Ma non si tratta solo di avere la potenza più grande, si tratta di potenza con un obiettivo. Unitamente a un motore più efficiente, vi permette di lavorare più ettere in meno tempo e con meno carburante, risparmiare sugli elevati costi di manodopera e sulle ore di esercizio. Si tratta anche di un'esperienza del cliente a breve termine. Tutti i componenti principali, come motore, visione e cabina, assali e precision aging technology, sono progettati e costruiti da John Deere. Questo è il nuovo modello di punta, il Nova RX 830. Grazie agli 83 cavalli aggiuntivi, raggiunge la potenza massima di 913 cavalli. Con il Nova RX 770 e 710 abbiamo due modelli che stendono la gamma senza soluzione di continuità, dal nostro attuale Nova RX 640 al nuovo modello di punta Nova RX 830. Come opzione c'è anche la gestione intelligente della potenza idraulica, che aggiunge 40 cavalli per le applicazioni idrauliche più impegnative. Nonostante lo stesso nome, i tre nuovi modelli Nova RX sono stati progettati da zero. Rispetto ai modelli di potenza inferiore, esistono più di 50 diverse nuove funzionalità. Iniziamo da qui sotto il motore. Il nuovo JD18 è il motore più avanzato di John Deere. Questo motore è impiegato su molte altre delle nostre trince, note per le loro straordinarie prestazioni e resistenza, in condizioni di riduzione della potenza con carico pesante. È dotato di treno-valvole con intervalli manutenzione più lunghi e impiega meno olio, progettato per la durata utile di 20.000 ore, presenta controlli diagnostici migliori, utilissimi a monitorare da remoto. Un altro grande vantaggio è che non richiede alcun additivo per emissioni diesel. Oltre ad un intervento di assistenza in meno, consentirà di ottenere enormi risparmi nell'arco di vita della macchina. Per scaricare tutta questa potenza a terra, abbiamo bisogno di una macchina più pesante per la trazione necessaria. Nella parte anteriore è presente una nuova zavorra da 1000 kg. Insieme al nuovo sottocarro e alle zavore posteriori aggiuntive, vi permettono di sfruttare ogni cavallo in maniera produttiva. In più, tutto questo peso aggiuntivo non aumenta il compattimento del terreno. Grazie al nuovo design del sottocarro, abbiamo aumentato l'impronta a terra di questo trattore, alla stessa bassa pressione al suolo degli attuali modelli Nova RX. Una ruota motrice molto più grande innesta un numero maggiore di alette delle cinghie per trasmettere efficacemente la potenza a terra. La combinazione di più cavalli e peso vi permette di impiegare attrezzi più grandi. In questo modo il terreno rimane in salute, garantendo rese elevate in futuro. Alloggiate comodamente nella parte posteriore per un facile accesso, si trovano le opzioni di pompa idraulica doppia o tripla. Con fino a 636 litri al minuto, viene fornita una portata sufficiente anche per gli attrezzi più grandi e impegnativi. Potrete esercitare il controllo preciso sullo sterzo in presenza di carico massimo. È davvero facile accedere alla cabina, perché i gradini sono stati orientati verso la parte posteriore. Questa è la nuova cabina Command View 4 Plus. Una volta che siete al suo interno e chiudete la portiera, la prima cosa che notate è quanto è silenziosa. L'isolamento acustico è eccellente. Anche la visibilità è eccellente. I tubi di aspirazione e scarico dell'aria sono posizionati nelle linee di vista dei montanti A. Quindi non ostacolano la vostra visuale. Abbiamo inoltre eliminato diversi punti ciechi. È uno spazio fantastico per le lunghe ore sul campo. Un sedile con massaggio super confortevole. Un sistema infotainment con touchscreen e sei altoparlanti con subwoofer per un suono davvero straordinario. Avete anche più spazio per le gambe. Una cosa che notate davvero quando vi girate a destra per controllare l'attrezzo. Nelle giornate piovose apprezzerete anche il nuovo design del tagge cristallo. Posizionato in basso al centro del parabrezza, riuscirete a vedere tutto ciò che vi serve, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Il design della trasmissione Power Shift E21, di nuova concezione, è estremamente resistente. Grazie alla trasmissione del moto, completamente meccanica, la potenza massima viene scaricata a terra senza grosse perdite. Il numero maggiore di marce implica una spaziatura ravvicinata, quasi come una trasmissione a variazione continua. E si guida anche meravigliosamente. L'Active Command Steering semplifica molto il controllo quando effettuate le manovre a fine campo o su strada. Sì, su strada. Con cingolature strette 76 centimetri, gli ingegneri hanno realizzato ciò che sembrava impossibile, mantenendo la larghezza al di sotto del limite di 3 metri. La guida è eccellente grazie al sistema di sospensione della cabina con tre livelli di impostazione e molto simile al sistema utilizzato sulla 8RX, che ha ricevuto molti riscontri positivi. Quattro amortizzatori e degli urti posizionati in ciascun angolo permettono il movimento dell'intera cabina. Sopra di me, integrato nel tetto, si trova il ricevitore Starfire più recente. Qui c'è il display touchscreen G5 Plus ad alta definizione e molto più grande e ha un processore più veloce che lo rende altamente reattivo nel passaggio tra le schermate. Potete gestire tutto da un unico schermo e potete raddoppiare l'area visualizzabile per il controllo di applicazioni più complesse, fornito in base a AutoTrack, controllo del dosaggio variabile e controllo sezioni. Le licenze Advanced opzionali offrono maggiori funzionalità per l'agricoltura di precisione, tra cui John Deere Machine Sync, AutoPath, condivisione dati campo Starfire RTK, con una precisione di 2,5 cm. La connettività JD-Link invia automaticamente i dettagli di ciascuna passata al John Deere Operation Center. In questo modo, il vostro concessionario può monitorare da remoto le prestazioni e svolgere la manutenzione predittiva con Expert Alerts. La manutenzione regolare è veloce e semplice e può essere svolta da terra. Con un numero minimo di azioni vi farà risparmiare tempo sul campo. Inoltre, gli intervalli manutenzione sono più lunghi, riducendo così i tempi morti e i costi di esercizio. Tutti i controlli quotidiani dei livelli dei fluidi, come liquido di raffreddamento, sistema idraulico e olio, sono eseguibili da terra, anche il bocchettone del serbatoio del carburante e collocato comodamente vicino ai gradini. Inoltre, rimanrete più puliti nelle giornate calde e polverose. La piattaforma intorno alla cabina rende più semplice e sicuro l'accesso per la manutenzione. Inoltre, il gruppo di raffreddamento del motore non richiede una pulizia frequente e, quando è necessaria, potete soffiare via polvere e residui dall'impianto premendo semplicemente un pulsante. Quando raramente occorre una riparazione, il 9RX è specificatamente progettato per rendere la sostituzione dei componenti nel campo semplice ed efficiente. Quando si parla di questi nuovi modelli 9RX, è facile concentrarsi sulla potenza, ma conta anche come la potenza viene usata. Più potenza significa attrezzi più grandi, meno passate, lavori più veloci, qualità migliore del lavoro. E quando le finestre meteorologiche sono strette, ciò significa che potete completare il lavoro in tempi impossibili per gli altri. La nuova 9RX, coltivate con più potenza. durante il ris rapese delle mani, ecco che vede alla ellosistra, progettare tutti veramente ris� focussi